Due alberi natalizi con i schetti degli operai. Anche quest'anno l'Associazione Nazionale Fra Lavoratori, Mutilati e Invalidi del Lavoro promuove la realizzazione degli alberi della sicurezza. Nati da un'idea di Francesco Sbolzani, questi alberi stilizzati sono composti da caschetti usati. L'intenzione è quella di ricordare le tante vittime del lavoro in Italia. Per il secondo anno consecutivo, Anmil ne sostiene la realizzazione, in tandem con altre realtà dei vari territori. Per quanto riguarda Padova, due alberi sono stati installati ad Este e Polverara. Ricordiamoci il significato di questo albero, che dietro ogni caschetto ci sono dei pianti di mamme, di papà, di mogli, gente che è morta nel lavoro. Questo è un significato appunto, abbiamo creato questo albero per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli infortuni sul lavoro.